Qui si respira la muffa e non solo quella perché la fognatura è rotta. Fa freddo, i muri sono talmente impregnati d'acqua che un termosifone si è letteralmente staccato dalla parete cadendo per terra, le lenzuola sono fradice e non c'è acqua calda. L'antiigienicità dell'ambiente è stata certificata dall'ASL. Ma per chi ci abita non sono più questi i problemi. Il vero guaio è che tra poche ore busserà all'ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. La signora Laura e il suo compagno Massimo sono disperati. Sono nella graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare al 398esimo posto, quindi hanno diritto ad un alloggio che però non sarà disponibile prima di due o tre anni, questo almeno hanno detto del comune. È vero, ad un certo punto delle loro vite non sono più stati in grado di pagare l'affitto di 350 euro al mese di questa casetta in via del Delfino a Lecce. Entrambi disoccupati e ammalati, la figlia 24 anni di lui, in terapia al centro di igiene mentale, vive qui e dorme su una brandina in corridoio. Quello che lamentano è l'illusione, che sarebbe arrivata dal comune, di vedersi assegnare una casa a parcheggio, un tetto sotto il quale stare fino a quando prenderanno possesso della casa popolare cui hanno diritto. Quando abbiamo fatto la domanda per un alloggio temporaneo, ci è stato detto che saremmo stati tra i primi in graduatoria, ma ora è arrivato il momento dello sfratto e ci dicono che no, la casa non l'avremo. Lo sfratto avverrà quasi contemporaneamente alla pubblicazione della lista che a quanto pare li esclude, eppure, secondo Laura, con tutta la documentazione che hanno allegato alla domanda e con il decreto di sfratto dovrebbero averne diritto. Affranta ha scritto e portato al protocollo una lettera. Vi ringrazio per il bel Natale, farò l'albero in macchina, avviscerò anche Babbo Natale, che il carbone vi venga recapitato e speriamo che non faccia troppo freddo. Siete persone stupende e comprensive, auguri. Io cosa chiedo? Una stanza. Una stanza da poter mettermi l'albero di Natale, da poter portare mia nipote, da poter cucinare e mangiare in grazia del signore. Solo quello chiedo. Una stanza. Non voglio l'albergo, non voglio una residenza. No, no, no. Una stanza. E soprattutto che non mantengono le cose che poi non possono mantenere. Che non dicano. Perché sennò io mi sarei trovata a un buco di stanza, almeno per vivere in questi giorni. Giovedì 5 dicembre. È una data che Laura non dimenticherà mai. È il giorno in cui diventa una senza tetto. Un po' di dignità avrei voluto, ecco. Non me l'hanno data.